La musica è un grande contenitore dove ci sono emozioni, speranze ed è giusto che noi portiamo con la nostra musica anche Veneta e non solo, insomma, del nostro repertorio questo grande incontro. Pronti alla partenza i coristi di Voice in Soul di Cittadella diretti da Antonia Pia in volo verso il Rio Grande do Sul in terra brasiliana per uno scambio culturale e artistico legato alle nostre tradizioni perché, sappiamo, sono tantissimi i Veneti emigrati il secolo scorso in Rio Grande. Noi andiamo appunto in Brasile per portare il canto veneto, per rincontrare queste persone con le quali abbiamo già stretto un forte legame di amicizia e non vediamo l'ora veramente di incontrarli. Noi siamo un coro gospel, il coro gospel per la sua natura esegue canti degli schiavi neri africani. Non c'è tanta distanza tra gli schiavi neri africani e gli schiavi bianchi perché erano schiavi bianchi che sono andati a lavorare nel Brasile con tanta sofferenza ma con tanta dignità e portando in alto il nome del Veneto e dell'Italia nel mondo. Una trasferta di 15 giorni, tanta musica, un tuffo nel passato e forti emozioni, soprattutto un accenno all'attuale concezione della migrazione. Non ci dobbiamo dimenticare chi siamo stati, noi siamo quel che i nostri emigrati ci hanno portato e abbiamo una forte considerazione anche per tutte quelle popolazioni che si spostano per motivi di guerra, di fame dai loro paesi e vanno ad emigrare in altri stati lasciando tutte le loro cose per altri paesi, per altri mondi. Grazie. 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 Grazie.